Casa Andriolo è un piccolo museo molto prezioso perché ci racconta attraverso oggetti semplici d'uso quotidiano cosa è stata la vita domestica delle nostre nonne nei paesi di montagna in Trentino. Pentole di rame per cucinare, erbe officinali per guarire malanni, stoffe per dare colore, sagomare tovaglie, tende, vestiti da cucire con ago e filo. E nel tempo libero niente social ma l'antica arte del tombolo e del ricamo quando al posto della rete c'erano le parole scambiate davanti al fuoco di un camino. È una visita che scalda il cuore, provate per credere.